Quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine su una banda ritenuta responsabile di rapine a mano armata, corriere di trasporto, ricettazione indagine che aveva portato nel maggio scorso ad altrettanti arresti. Allora toccò a quattro pregiudicati, i baresi Luca Nicola Stramaglia, Gaetano Colella rispettivamente di 38 e 39 anni, il 52enne Diego Cazzorla di Bitritto, il 34enne Daniele Emideia di Trigiano. Ora l'ulteriore sviluppo delle indagini evidenziato le responsabilità di altre quattro persone, Costantino Galletto, 42 anni di due cattaro, Michele Pellegrino e Angelo Iacovelli rispettivamente di 44 e 48 anni di Carbonara di Bari e Angelo Digesi, 53enne di Gravina in Puglia. Questi ultimi sono stati arrestati alle prime luci dell'alba in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal G per il Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'operazione è stata eseguita dai militari della Compagnia di Gioia del Colle in collaborazione con quelli della Compagnia di Bari-San Paolo, Trigiano e Altamura. Tre colpi attribuiti agli arrestati, una rapina commessa nel quartiere San Paolo di Bari nell'aprile dello scorso anno e danni di un corriere di una società di trasporti sotto la minaccia di una pistola avevano costretto l'autista a consegnare loro un pacco contenente gioielli e orologi di valore destinato a una gioielleria di un centro commerciale della zona. Ritrovata all'interno di un capannone industriale a Gravina in Puglia, gran parte della rifurtiva di un altro colpo, 88 Colle di Biancheria Intima, frutto di una rapina compiuta a Trani nel giugno dello scorso anno da un commando composto da almeno cinque banditi armati ai danni di un autotrasportatore. Galletto e Pellegrino sono stati condotti alla casa circonda reale di Bari, mentre per gli altri due arrestati sono stati disposti i domiciliari su un incorso ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale partecipazione di quattro ad altresime rapine avvenute nella provincia di Bari.